Abbiamo 18 progetti a loro volto divisi in tanti interventi, faccio l'esempio per esempio della telemedicina che già in Liguria è già piuttosto sviluppata ma avrà con questo progetto un balzo notevole, esistono all'interno di questo progetto tanti sottoprogetti importanti, interventi, noi li chiamiamo tipo la televisita, il teleconsulto che è fra medici, il telecontrollo per chi è un malato magari cronico, c'è tutto il ragionamento della teleriabilitazione, quindi insomma la sanità è uno degli argomenti centrali. Abbiamo il discorso di tutto il prenoto vaccino e con l'estensione a tutti i vaccini, abbiamo fra poco, partiremo con un prenoto e prevengo che sarà molto importante dal punto di vista dello screening, quindi cercheremo, ecco su quello penso che sarà un bellissimo progetto perché non riguarda solo servizi informatici per quanto importanti ma anche andrà a toccare profondamente la logistica del cittadino. Abbiamo già introdotto in piena pandemia e un po' in fretta perché hanno un'emergenza la possibilità di andare in farmacia senza dover passare dal medico di famiglia a ritirare la ricetta per tutte quelle che vengono in gergo chiamate ricette rosse, ossia quelle coperte con ticket o senza ticket dal Servizio Sanitario Nazionale. Adesso lo vogliamo estendere, siamo già pronti a estendere, abbiamo un po' di problematiche di processo, di privacy, il sistema esiste già alle cosiddette ricette bianche che sono tutte ricette. Se non ci fosse stato il supporto informatico, quindi il grande lavoro che Liguria Digitale ha fatto forse non saremmo così, saremmo molto peggio perché avere permesso alla popolazione veramente con pochi click, anche da parte di persone che in fondo non hanno grande dimestichezza con gli strumenti informatici, veramente strumenti molto semplici, hanno fatto la differenza. Noi non possiamo fare a meno dell'informatica, quindi della tecnologia in senso lato, da qui al futuro perché sempre di più noi abbiamo bisogno di in qualche modo non far muovere i malati, se non per l'esecuzione del test, dell'esame, della visita, ma tutto ciò che sta attorno, che è il mondo della prenotazione, anche della refertazione, deve essere fatto col paziente che sta diciamo fermo nella propria abitazione e riceve il dato o lo invia.